Dio si rivela in Gesù Cristo sulla croce. Non possiamo quindi dubitare più dell'amore di Dio, ma come umanità, a mani vuote, ma con riconoscenza accogliere questo lieto annunzio. Vangelo significa proprio questo. Accogliendo dunque con gratitudine la sua grazia e sapendoci amati fino a questo punto da Dio, dimoriamo nella sua pace e cerchiamo di comunicarla anche agli altri. Il regno di Dio, il regno della pace, non avrà mai fine.